Maxi sbarco di migranti al porto di Roccella Ionica. Sono circa 200 infatti i profughi di varie nazionalità, ma in prevalenza afghani e iracheni, giunti stamattina nello scalo ionico al termine di una complessa operazione di soccorso iniziata nel Mar Ionio, portata a termine e compiuta congiuntamente dalla Guardia Costiera Roccellese e dalla Guardia di Finanza. I migranti si trovavano a bordo di una barca a vela da oltre 20 metri, localizzata a circa 95 miglia dalla costa della Calabria. L'imbarcazione, secondo quanto raccontato da alcuni profughi, sarebbe partita nella notte tra giovedì e venerdì scorso dalle coste della Turchia. Tra i circa 200 migranti ci sono donne e numerosi bambini e minori, alcuni dei quali non accompagnati, tanti anche i nuclei familiari al completo. Si tratta del settimo sbarco di migranti lungo le coste della Locride negli ultimi dieci giorni. I migranti sono stati temporaneamente sistemati in una struttura realizzata nello scalo portuale Reggino e gestita da Croce Rossa e Protezione Civile.